Ben trovati a questo appuntamento con l'informazione cattolica delle Marche che ci viene proposta dai settimanali diocesani. Iniziamo subito con l'azione settimanale della diocesi di Fabriano Matelica. Lo vedete già in prima pagina, si parla di sport, Matelica, sorrisi e palloni, fari puntati sullo sport. Questa settimana la squadra di calcio del Matelica infatti sta diventando un vero e proprio fenomeno collettivo e sociale. Reduce da tre promozioni consecutive il team del presidente Canil, ora è secondo in classifica alle spalle della grande capolista Ancona. Andiamo a leggere allora all'interno l'articolo, calcio fenomeno Matelica, la squadra di Canile è seconda in serie D e adesso sfida l'Ancona. Il Matelica calcio sa soltanto vincere, dopo Sulmona anche a Macerata ha imposto la legge del più forte 0-3 senza appello a nichiliti maceratesi di mister Favo. Contro la maceratese una vittoria memorabile, ora servirà tanta grinta con la regina Dorica. E passiamo ora alla cronaca tra frane e desondazioni, ma nel territorio fabrianese il rischio idrogeologico non è molto alto. E rimaniamo ancora su Fabriano, lo causto mai dimenticare. Le donne di Artemisia hanno caratterizzato il giorno della memoria. Quei tre pilastri per il commercio, sgravi fiscali, monitoraggio e zona franca. Sgravi fiscali, monitoraggio costante richiesta per l'istituzione di una zona franca urbana. Sono questi i tre pilastri sui quali si baserà il corposo programma per rivitalizzare il commercio a Fabriano. A farsi promotore di questa iniziativa è l'assessore Mario Paglialunga. Passiamo ora a due pagine dedicate interamente alla scuola. Per una scelta responsabile stanno scadendo le pre-iscrizioni, l'innovazione influisce sugli orientamenti. Le opzioni occupazionali dell'agraria è necessario ricordare che una delle più importanti finalità dell'Istituto di Istruzione Superiore Morea Vivarelli è facilitare nei ragazzi il processo di consapevolezza di sé e di responsabilizzazione per aiutarli a prendere decisioni meditate ed inserire in un preciso progetto personale. Almorea, ragionieri periti turistici e geometri. Stegi e tirocini per una competenza dall'alternanza scuola-lavoro ai progetti Fixo e Leonardo. Come sviluppare intelligenze forti in un percorso scolastico, arte e bellezza nel futuro. E siamo ancora su Fabriano, il tormentone dei ricordi. Sè di Fabriano Sè, un simpatico gruppo La Nostra Identità. È nata da pochi giorni, l'iniziativa che è imperversa sul social network Facebook e che fa leva sul semplice slogan 6 di Fabriano Sè. Sta già raccogliendo ampi consensi in molte città e qui da noi è stata lanciata in rete da Don Andrea Simone. Ognuno può dire la sua, mediante frasi, ricordi, aneddoti, espressioni dialettali, fotografie eccetera che contraddistinguono la nostra città. Gentile per noi, la formazione in cinque progetti, comune d'amati insieme per un teatro da Porto Franco. Spazio agli eventi, la vicenda di Muraio, storia di una ragazza somala, ospite dell'ITIS Merloni. Tra enti no profit e cooperazione, l'Università di Camerino presenta il nuovo corso di lauree al Classico. Spazio lavoro, gli altri nodi da sciogliere, il sindaco Sagramola sulla vertenza Indesit. Buono l'accordo, ma le tre domande fatte al segretario della FIOMCGL della provincia di Ancona, Bassotti, sulla vertenza Indesit, vengono rivolte ora anche al nostro sindaco Giancarlo Sagramola che gentilmente ha risposto, penso che anche questo intervento contribuisca alla chiarezza delle posizioni. Confartigianato a Roma per le piccole imprese. E ci spostiamo ora a Matelica, il testamento morale di Libero Bigiaretti, un'edizione speciale, fu protagonista sulle pagine del Corsera. Pietre della Memoria, gli studenti ed il passato, il progetto Pietre della Memoria, un'iniziativa a livello nazionale lanciata nel 2013 dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Consiste nel censire e catalogare lapidi, monumenti, steli, cippi e lastre commemorative che ricordano persone fatti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di censire entro il 2017 almeno 100.000 Pietre della Memoria e di renderle disponibili su internet nel sito web www.pietredellamemoria.it. Acqua potabile, un rebus per aria nuova matelica, serve un po' di chiarezza sull'emergenza idrica. Amami, il progetto del comune per un vero distretto culturale, sono tanti lavori in corso che coinvolgono la città. E ancora su Matelica si parla di carnevale, carnevale matelicese con Ballantini. 1890-2014, foto senza età, giovane professionista rileva lo storico studio di piazza Garibaldi. Sasso Ferrato, la galleria d'arte, avrà il nome di Salvi. E continuiamo ancora con le pagine che riguardano la chiesa. Un anno fa Benedetto, a colloquio con Giovanna Chirri, la giornalista dell'Ansa, protagonista del più grande scoop del secolo, le dimissioni in latino di Papa Ratzinger. Ora è il turno dell'Avsi, Don Giovanni Mosciatti ed il suo gruppo in un concerto benefico. Passiamo alle pagine della cultura. Leone XII arriva a Roma, prima mostra dedicata all'iconografia del Papa Marchigiano nella capitale. E passiamo ora al nuovo amico, il settimanale di informazione delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino. Lo vediamo già in primo piano. Pesaro, città solidale da 200 mila euro. Una valanga di offerte alla Caritas nel 2013, contrasto alla povertà e convegno sul disagio sociale. Disoccupazione in provincia più alta della media regionale. Andiamo a vedere. Il quadro del disagio sociale in provincia, fallimenti più 11%, disoccupazione più 15%. La Caritas ringrazia Pesaro, città solidale, raccolti 200 mila euro. Entriamo nelle pagine di Pesaro. Monsignor Piero Coccia visita agli ospedali San Salvatore e Muraglia. Giornata del malato tra fede e carità. Lorena Mombello, direttore sanitario dell'azienda Marche Nord. Questa crisi si riflette anche sui pazienti. E continuiamo ancora. Si parla di premio circolo della stampa. Tra i premiati, Lucia Nibali, Anna Maria Ambrosini e Maria Grazia Masetti. Torna il premio circolo della stampa di Pesaro. Quest'anno la manifestazione giunge alla sua trentesima edizione, ma festeggia anche il cinquantesimo anniversario della sua ideazione. La consegna dei riconoscimenti andrà ad Anna Maria Ambrosini Massari, storica dell'arte. Per essere ormai da tempo fermo e autorevole punto di riferimento nella ricerca e nello studio della storia dell'arte, Lucia Nibali, per la sua forte e autentica testimonianza di una grande dignità personale e sociale che si riconferma di fronte alle offese. Maria Grazia Masetti, archeologa, per il prestigioso ruolo internazionale ricoperto che è sigillo di un'attività professionale di altrettanta eccellenza. Il premio speciale andrà all'ente Olivieri per i 220 anni di attività e alla mostra internazionale del nuovo cinema per i 50 anni di attività. E passiamo ora alla diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, incontro con Asmeda Shan sulla situazione della Siria. Una guerra raccontata ad altezza di bambino. Per vivere la pace, oltre 500 ragazzi della CR alla ricerca della giusta via. E anche nelle pagine della diocesi di Fano si parla della giornata mondiale del malato, educare al dono Santa Messa del Vescovo nella giornata mondiale del malato con unzione degli infermi. Visitando gli ospedali della nostra diocesi con affetto mi faccio vicino alle famiglie che hanno in casa, persone che soffrono, e ringrazio il personale medico, paramedico, le collaboratrici familiari e le suore per il servizio che svolgono agli anziani e ai malati. Ha esordito con queste parole il Vescovo Armando martedì 11 febbraio in cattedrale, nell'Omelia della Santa Messa in occasione della giornata mondiale del malato, durante la quale ha conferito il sacramento dell'unzione degli infermi. E proprio in occasione della giornata mondiale del malato, al centro pastorale si è tenuto un incontro con il dottor Gabriele Frausini. Al centro pastorale, incontro con il dottor Frausini, dobbiamo sapere ascoltare chi soffre. Convocazione nazionale non più a Rimini ma a Roma per il rinnovamento nello spirito. L'importanza di una buona formazione, intervista a Don Giuseppe Cavoli, direttore dell'ufficio catechistico. Papa Francesco ha dedicato nei giorni scorsi un'intera udienza al sacramento della confermazione, sottolineando l'importanza di una buona formazione per i cresimandi. Per l'occasione abbiamo chiesto a Don Giuseppe Cavoli, direttore dell'ufficio catechistico diocesano, di spiegarci l'importanza di questo sacramento. Siamo a Cagli, conferite le civiche benemerenze nel giorno della rifondazione della città. Appuntamento il 19 febbraio con la giornata internazionale della guida turistica, conosciuto e sconosciuto. Ci spostiamo ora nelle pagine dell'Arcidiocesi di Urbino Urbani a Sant'Angelo Invado. Primo giovedì del mese a Santo Spirito, molto partecipata alla Santa Messa, presieduta dall'Arcivescovo. E poi viva soddisfazione in diocesi, Monsignor Tani, vescovo segretario della conferenza episcopale marchigiana. Quattro incontri all'Istituto di Grafologia, l'Officina delle Emozioni. Prima del vischio la rivista di Urbani a Don Corrado Leonardi, uomo di provincia. La scomparsa degli urbinati, riflessioni sulla vita della città e poi ancora soddisfazione della studentessa urbinata e successo di Elisa Lorenzoni al concorso fotografico Vita da Comics. Così mi sono salvato dalla FOIBA, testimonianza di Eugenio Vagnini. Eugenio Vagnini, classe 1924, profugo di Zara, da molti anni vive a Pesaro. Benedetto Lupo, pianista formidabile, trascina all'entusiasmo il Rossini. Mamma o non mamma, la violenza sulle donne, mostra fotografica ideata da Silvia Lazzari del liceo Mamiani. Festa grande con Raba Ken, il carnevale dei ragazzi. E passiamo ora alla voce della Vallesina, 11 febbraio 2013. Anche qui si parla delle dimensioni di Ratzinger, una decisione profetica. Appuntamento al Museo di Ocesano, appunto nel weekend appena trascorso, giornata dei musei ecclesiastici. Cercava la verità in ogni espressione artistica Castel Bellino, in ricordo del professor Sandro Franconi e della sua passione per il paese. Assemblea regionale del Forum delle Marche ad Ancona e le associazioni familiari a confronto è stata fissata alla data del 22 febbraio prossimo per la convocazione regionale del Forum delle Famiglie presso la Casa Perferi e Stella Marisa, Torrette di Ancona. E continuiamo ancora con la voce della Vallesina. Al Ferrini, la vocazione dell'Evangelista Matteo, con Don Vittorio Magnanelli, stai chiamando proprio me, il libro di Antonella Lumini, Dio è madre, l'altra faccia dell'amore, la madre non si stanca mai di amare. L'allegra compagnia di nuovo in scena, all'orizzonte il debutto al Palacongressi di Loreto, il 15 febbraio. Se il catechismo non genera felicità, un libro sulla catechesi di Don Giovanni Varagona di Ancona. Fabriano, mostra collettiva itinerante di arti visive, dall'1 all'8 maggio, sul tema del Padre Nostro, un progetto per gli artisti di tutte le diocesi italiane. Un motivo di orgoglio, Iesi, la giunta ricevuta dalla Boldrini a Monte Citorio. Siamo a Cupra Montana, il libro sulle suore francescane di Santa Caterina, il concerto dell'orchestra marchigiana, musica e immagini dietro quel cancello. Primo spettacolo della rossina di teatro delettale, lo sberleffo dedicato a Lello Longhi, signori, il pranzo è servito. Milano Marittima, il forum agroalimentare della Compagnia delle Opere, con la testimonianza di Paolo Cevoli, quello che il Padre Eterno mi ha dato va servito. E passiamo ora ad Emma, usi il settimanale della diocesi di Macerata, lo vedete già in prima pagina, Intolleranti perché, e ancora torna l'inserto dedicato ai ragazzi. Intolleranti perché, siamo anche ciò che non mangiamo, diagnosi, rimedi e suggerimenti, dalla tavola alla digestione senza disagi. Che si tratti di allergie o di intolleranze alimentari, il problema è sempre quello, mangiare non è più un piacere, bensì un banco di prova con cui misurarsi. Per non parlare di chi soffre di celiachia, Emma usi indaga così, tra diagnosi, rimedi e testimonianze, per mettersi a tavola senza sentirsi diversi. Figliera corte biologico, tra le possibili soluzioni, celiachia, un interruttore pronto ad accendersi. Il dato, soltanto 7, i ristoranti AIC presenti in diocesi, ancora pochi gli esercizi AIC presenti in diocesi. Se nel capoluogo troviamo l'Osteria dei Fiori Arecanati, la cantina di Ale e scendendo a Porto Recanati è consigliato l'hotel Giannino. A Tolentino è altresì segnalata la pizzeria San Nicola, mentre a Treia sono ben tre i ristoranti antiche mura da hotello e villa cortese. Passiamo ora alla cronaca, siamo a Porto Recanati, con Nero Blu, al Burchio, un piano di valorizzazione utile per il territorio. La società si presenta alla cittadinanza e illustra nel dettaglio il progetto del resort di lusso, dopo il dibattito acceso dalle forze politiche. Ancora Arecanati, rinnovato l'accordo fra l'Istituto Mattei e l'azienda leader nel settore Audiocar, Itis Eletromeda, un patto per il lavoro. Macerata da Moccia Agliusa, l'attore Simone Riccioni si racconta, intanto cresce il successo per il film e fu sera e fu mattina in replica l'11 febbraio. Siamo a Tolentino, nella rete Felici e Connessi, l'IART incontri i ragazzi delle scuole medie. Sabato 8 febbraio, dalle ore 17.30, presso l'Oratorio Salisano di Macerata, il presidente provinciale dell'IART incontri i ragazzi e ha incontrato appunto delle scuole medie per un confronto sul tema Felici e Connessi, fare rete oltre la rete. La carica di 260 per Sant'Esuperanzio, la quindicesima edizione del concorso artistico, ha visto l'ampia partecipazione degli studenti. E passiamo alle pagine che riguardano la provincia. Adam Accademia, l'offerta multipla dell'arte per una città della cultura. L'associazione si prepara alle prossime mostre internazionali, accoglie tra i suoi suocci l'artista Luca Tomassini e la professoressa Paola Ballesi. E lo Zoom è dedicato a un triste segnale dai racconti mediatici del nostro paese, le parole svuotate. Passiamo ora alle pagine dedicate alla cultura, uno speciale giovani, quarta edizione per il concorso letterario nazionale promosso a Recanati. Raccontare scrivendo va sulla luna. Young Vision tesse la rete delle arti visive, un progetto sui linguaggi espressivi della comunicazione per giovani dai 18 ai 35 anni. E tornano le pagine dedicate ai giovani, è tornato la terza uscita, Pollicino. E quindi appunto potete leggere i vari contributi. Passiamo alle pagine che riguardano la comunità. Giornata mondiale del malato, educati secondo fede e carità, il tema proposto dal Santo Padre per l'11 febbraio. Pianeta educazione, prendersi cura della scuola, l'impegno dei cattolici. Nasce anche un sito in vista del grande appuntamento del 10 maggio con Papa Francesco. A Monte Cassiano, conferimento dei ministeri, Santa Messa con il Vescovo, domenica 9 febbraio. E uno sguardo veloce alla pagina dello sport, automobilismo, torna la Miglia e Miglia a Recanati. Torna a Recanati dopo oltre 20 anni, l'ultima volta fu nel 91, la Mille Miglia con appuntamento fissato per venerdì 16 maggio. E ora siamo con la voce Misena, il settimanale della diocesi di Senigallia, terra e rete, qualche appunto su come cambia l'agricoltura italiana. Agricoltura, chi produce piange, chi trasforma e vende sorride nel peggiore dei casi. Nel migliore guadagno e progetta di espandersi. Questa è la strana foto di un settore che mescola terra e tavola, campi e scaffali, trattori e macchine confezionatrici. Entriamo nelle pagine della voce Misena quando le Olimpiadi provocano un dibattito su come va il mondo, giochi olimpici e di potere. E si parla anche sulla voce Misena di Foibe, la lezione europea, una storia avvolta nel silenzio che parla all'intero continente. La voce Misena dedica un ampio spazio ad Arcevia, tra Signorelli e della Robbia, musei, chiese antiche, tra colline Appennino, luogo dalle tante suggestioni. Seconda puntata degli itinerari vicini, la voce Misena propone una gita che parte da una bella chiesa della nostra diocesi, iniziando da dove si è celebrata la festa del Signore. La Compagnia dell'Arancia alla Fenice sfide a teatro. E ancora il famoso calendario compie 70 anni di vita, colloquio con frate Indovino. Nell'anniversario della morte di Papa Mastai, il 7 febbraio del 1878, ospirava Roma Papa Pio IX al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti. Pio IX, nato a Senigallia il 13 maggio del 72, 1792, fu il 255esimo Vescovo di Roma e l'ultimo sovrano dello Stato della Chiesa. Chiesa a stelle e strisce, intervista al Vescovo di Los Angeles sul tema migranti. Nel recente discorso sullo Stato dell'Unione, il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha invitato la Camera dei rappresentanti a muoversi con urgenza sul terreno della riforma dell'immigrazione. Le religioni per la pace, non vogliamo che la religione sia trascinata in un conflitto che è puramente politico, è quanto hanno affermato i principali leader religiosi della Repubblica Centroafricana, in una conferenza stampa tenutasi la scorsa settimana. Il paginone centrale è dedicato la bulla e gli altri domande agli adulti. Si potrebbero scomodare il disagio sociale, una vita alla periferia dell'umano, l'infanzia difficile, una famiglia non all'altezza del grave compito educativo, persino una comunità locale o una scuola assenti. Ma nel video che circola su Facebook, che riprende la bulla di bollate, che bestemmia, rifila sberle e un calcio in testa, una cotanea dopo averle strappate i capelli, c'è anzitutto violenza sempre e comunque ingiustificata. Il web che costruisce il bello della rete dall'Umbra alla Sardegna, si moltiplicano le storie della campagna a ribellarsi facendo di Comune.info, piccoli gesti quotidiani di ribellione basati sulle buone prassi, dal co-working all'autoproduzione alle banche del tempo. L'esperienza di una strada sociale per vivere meglio, se il vicino non fa paura. Un tuffo in piscina per tanti bambini, acqua per tutti. Tanti ragazzi in acqua, le classi prime e seconde della scuola primaria di Passorip, istituto comprensivo Nori De Nobili, tre castelli diretti dalla dirigente Adriana Aleandra a Siena, hanno partecipato al progetto Acqua per Tutti, proposto alle scuole dalla società polisportiva Senigallia. La giunta regionale a Corrinaldo, tanti temi affrontati dagli amministratori, tra cui turismo, rifiuti e infrastrutture, che sono stati i temi principali affrontati questa mattina a Corrinaldo nel corso dell'incontro tra la giunta regionale e quella comunale. La prima neve, il registro a Segre a Senigallia, prosegue al cinema multisala Gabbiano di Senigallia, la rassegna mercoledì, De Se, con la migliore cinematografia mondiale. E concludiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con la Voce delle Marche, il periodico di informazione e cultura della diocesi di Fermo, Famiglia e Vita, senza chiudere gli occhi, dinnanzi alle mode del presente. La famiglia sa rispondere sempre alle sfide di oggi, anche gli ex allievi di Don Bosco si interrogano sulle novità del presente. Vado a convivere o mi sposo? Questo è il problema. Papa Francesco, i cristiani si sposano nel sacramento perché sono consapevoli di averne bisogno. Più belli di prima, dopo 50 anni di matrimonio, i coniugi Mario e Sofia raccontano la storia portata avanti dalla provvidenza, tra timori di un amore che li ha trasformati nel tempo. Testimoni di un amore che li ha trasformati nel tempo. Convivenza, una sfida per la pastorale. Una grande opera di speranza e coraggio, il protagonista del matrimonio non è l'amore in se stesso, ma le persone. Provare una persona significa ridurla a oggetto di sperimentazione, la persona si sceglie. I beni più preziosi non devono essere cercati, ma attesi. Chiare Francesco, Fermo, l'amore è quello vero, nella parrocchia di San Giovanni Bosco. C'era una volta un pezzo di legno, Montottone e Monsan Pietro Morico, i giovani rivisitano la storia di Pinocchio. Nascono i laboratori di danza, recitazione e canto necessari per la messa in scena e la buona riuscita del musical Pinocchio. La danza e il canto e la recitazione non mirano all'utilità immediata come l'economia, ma esprimono il desiderio di bellezza assoluta e di felicità condivisa. Il restauro che rallegra la città e unisce alla liturgia celeste, Civita Nova Alta, la confraternita del Santissimo Sacramento, completa l'opera. Costruite la comunione ai rappresentanti del cammino neocatacumenale il 1 febbraio 2014, Papa Francesco suggerisce alcune semplici raccomandazioni al cammino neocatacumenale. Costruire e conservare la comunione all'interno delle chiese particolari, pensare che lo spirito di Dio arriva sempre prima di noi, avere cura con amore gli uni degli altri, in particolar modo dei più deboli. Don Giuseppe Morrese ringrazia per il suo lungo ministero presbiterale Civita Nova una settimana per il cinquantesimo di messa. E continuiamo ancora a liberarsi dal nichilismo per sperare, Eurispes, Rapport Italia 2014, in Italia si aggira la subcultura della decadenza. Dieci anni di cammino, pensare e ripartire, grande e intensa partecipazione al convegno, camminando s'apre cammino. La strada è lunga ma esiste un solo mezzo per sapere dove può condurre, proseguire il cammino. Nei suoi libri la ricerca delle tracce del creatore Eugenio Corti, nato il 21 gennaio del 21 e morto il 4 febbraio del 2014. Per una vita ha cercato le tracce del suo creatore, le ha cercate nella vita di ogni giorno, nelle filande della sua brianza, nei canti religiosi degli operai e nelle feste contadine, ma anche nel bianco accecante delle distese ghiacciate di Russia, tra i soldati italiani moribondi, tra le vecchine di quel paese sterminato, che offrivano una patata ai superstiti dell'armata perduta. Le vedeva nel Redutiones del Paraguay, così come in certe scelte della politica dei grandi. Il restauro che rallega la città e unisce la liturgia celeste, dopo la benedizione dell'organo, Elisabetta Gaiardoni, Soprano e Maurizio Maffezoli, all'organo, hanno deliziato il pubblico con un concerto. Convivenza è una sfida per la pastorale, preoccupa non solo la scelta della convivenza, ma la velocità con cui vi approdano. Parliamo a volte di conoscenze di pochi mesi rimaste ancora troppo in superficie. Ci auguriamo che il matrimonio torni di moda, perché ciascuno di noi ha bisogno di amore nella promessa del per sempre. La rassegna stampa termina qui, noi ci rivediamo la prossima settimana, grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Grazie per la visione!